Voglio ringraziare i nostri giurati e anche J-AX perché è una cosa del genere, si vede solo qua. Grazie per mettere la vostra arte a disposizione in questa maniera, sicuramente per loro è una grande emozione ed ora vedremo duettare insieme, pensate, Echi con Rita Pavone. Cuore! Non mi è servito nemmeno muovere le mani, il fegato amaro ma con la schiena sempre dritta, la pancia riempita ma la fame rimane fissa, la testa per aria ma i piedi bene a terra sempre, ho capito che il cuore è la sola cosa che mi serve. Dio cuore, tu stai soffrendo, cosa posso fare per te? Mi sono innamorata e per te pace non c'è al mondo, se rido e se piango, solo tu vivi con me. Ehi, ogni lacrima, ogni pavito, ogni tipo d'amor, sto vivendo con te, le mie prime felicità, da quando l'ho conosciuto, per me, per me più pace non c'è. Io li voglio, me lo so, sei un mondo di bene, e tu porti dentro di me. Ogni piccola, ogni tenera, sensazione d'amor, ogni giorno lo so, sempre di più, sempre di più, tu, tu, tu soffrirai. O mio povero cuore, o mio povero cuore, o mio povero cuore. La mitica Rita Pavone, ecco il nostro Echi, devi portartelo dappertutto d'ora in poi. Io approfitto a Michelle per ringraziare. Questo muro straordinario, voi siete la vita di questo programma, le grandi della musica, Simone Mencini, ma... Mietta, siete a mezzanotte, grazie per tutto, mi sono divertita come non mai. Questo è All Together Now, noi ringraziamo te, Rita, Ale. No, 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 Rita, 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 cioè... Allora, no, io... Allora, All Together Now a parte, sfida a parte, 50k a parte, io credo che questa sera abbiamo visto la nascita di qualcosa di spettacolare su questo palco, perché questa è stata una combo mortale, ragazzi. Cioè, Echi e Rita Pavone assieme sono una bella, un tour. Io vi consiglio di fare un tour insieme dall'Arena di Verona fino a Giacarta. Ma veramente. Cioè, dovete proprio... Avete spaccato tutto, ragazzi. Ma proprio come coppia. Grazie, hai ragione, Mietta. Grazie, Simona, grazie di tutto. È stato pazzesco, posso dire una cosa. Tanto il voto è già stato fatto. Io voglio veramente fare i complimenti a questo ragazzo per come si applica, per quanta fame ha, perché in questo ambiente serve avere fame, grinta. Bravissimo, Echi. Allora, io invito...